Sarà una puntata accesissima quella del 23 gennaio, perché al grande fratello la tensione è decisamente alle stelle Si parlerà certamente di Perla e Beatrice, soprattutto alla luce della reazione furiosa della ragazza che non riesce a sopportare la coinquilina Ma ora è spuntato fuori un video che ha provocato la reazione dei telespettatori, rimasti davvero a bocca aperta Innanzitutto, durante un suo dialogo al grande fratello, Perla ha cominciato a parlare con Greta di Beatrice, raccontando le cose poco piacevoli sul conto dell'attrice Con me ha sbagliato, più mi dici una cosa e più non la faccio A me non interessa, ho la vita mia e sono serena Oh le mie mancanze, sono due mesi, ti iniziano a colpire quando sei debole, ha ammesso Grande fratello, Perla attacca Beatrice poi la giovane fa un gesto clamoroso Quando al grande fratello Perla ha esternato questa considerazione negativa su Beatrice, Greta ha dato ragione alla ragazza E la vatiero ha aggiunto, io non ho niente da fare, in qualche modo li devo passare questi due mesi, stuzzicami Ma a lasciare tutti i sorpresi è stata la reazione successiva di Perla, nel momento in cui Bea si è avvicinata a lei e alla Rossetti Nel bel mezzo del dialogo con Greta, Perla si è zittita incredibilmente quando ha visto Beatrice dirigersi verso di loro E gli utenti l'hanno criticata per questo, si ammutolisce non appena Beatrice le passa davanti, la cica mala valla a fare da un'altra parte per lì Ma altri internauti di X ci sono andati giù ancora più pesantemente, dicendo ad esempio che la giovane non ha carattere Quando ha visto Beatrice, Perla ha deciso di parlare di altro e ha nominato Garibaldi visto che era in corso la festa di compleanno di lui E il popolo del web non l'ha perdonata, fa la grande diva e dopo non ha gli attributi di dire le cose in faccia, la fenomena ha smesso di parlare, non hanno l'età di affrontarla